E' iniziata questa mattina alle 11.30 nell'aula bunker di La Mezzaterna l'udienza preliminare di Reset. Parte dunque la prima fase processuale dell'indagine della DDA di Catanzaro contro le cosche confederate del Cosentino, coinvolti anche politici, faccendieri e imprenditori. Poco prima delle 9.30 l'arrivo dei legali difensori degli imputati e dei magistrati antimafia che rappresentano la pubblica accusa. Sono in tutto 245 le persone coinvolte a vario titolo nell'operazione che ha assestato un duro colpo alla mala Cosentina. 135 invece sono le parti offese. Dopo il blitz, esponenti di rilievo della mala Abruzia hanno deciso di collaborare con la giustizia, come Roberto Porcaro, considerato reggente del clan degli italiani, Ivan Barone, vicinissimo e uomo di fiducia degli zingari, e Danilo Turboli, luogotenente di Porcaro, il quale però nelle scorse settimane ha compiuto un passo indietro, annunciando nel corso dell'udienza del processo Testa di Serpente di essersi inventato tutto e di voler interrompere la collaborazione con la giustizia. L'inchiesta Reset ha colpito però non solo i vertici dell'Andrangheta Abruzia, ma anche esponenti politici. Su tutti spicca il nome del sindaco sospeso di Rende, Marcello Manna, e poi l'assessore alla manutenzione decorurbano di Cosenza, Francesco De Cicco, e l'ex assessore ai lavori pubblici di Rende, Pino Munno, per il quale è stato disposto il giudizio immediato, il cui processo ha preso il via nei giorni scorsi. Questa mattina, dunque, nell'aula bunker di La Mezzia, l'udienza preliminare è con la costituzione delle parti davanti al gruppo Fabiana Giacchetti, nutrito il collegio difensivo, oltre 60 agli avvocati, mentre la pubblica accusa è rappresentata dai PM antimafia Vito Valerio e Corrado Cubellotti.